Il vostro tempo di reazione è Brevis 402 E passa Massimo, è arrivato Vigolone, ha detto Maggiolino, 3 su 3 Intanto si prepara la 207 Stiamo parlando della forza scelta di Gorbensky Schottel Conto la 211 di Nardi Diego Con il 207 dalla Svizzera con la sua scelta Ciac Gorsetti, come dice Fabio Curia Cavallo del Veste, Fabio Curia 204 Con il 209, Maurizio Fuso con la forza C3 Con il numero 204, Fabio Curia con la forza Massa, AMT paria, guardate la ruota posteriore Nella fase di partenza, l'occhio sento del rizzolo La gomma tende a flettere Con la colla sulla pista Questo è il tempo di reazione Con il numero 108, Jean-Luc Arnault, Mercury Cougar Sono gli equipaggi che sono arrivati dalla Francia Per questa non edizione dell'E-Race Dall'altra parte c'è la bianca, non vedo il numero Si tratta della 206 114-115 Riccardo Adorno Con la numero 114 Con il 115 Raffaele Corneo con la sua Dopo Plymont, guarda su, la rizzona Un'auto a scaldare le gomme Per cercare l'aderenza Con questo musione delle americane Con queste macchine, tutto motore Queste muscle car Che oggi cercano di essere disturbate dai maggiolini Attenzione, c'è un maggiolino Arrivano E a proposito del 5 Questo è Roberto Varesco E' Roberto Varesco Questa è la scuola dei maggiolini Attenzione L'origine italiana Ma a proposito Il suo 2002 con cilindri Porsche Adelone E' l'unico sui pistoni e cilindri Il pistone e cilindro è scosso Il nostro preparatore americano Una macchina Deli 959 220 cavalli Dietro il sofano Roberto Varesco Quarta partecipazione Dal Trentino Da Cavalese Attenzione Ragazzi che medile Sarà perché c'è lavoro Sarà perché c'è guido Meda Ma che legna Vabbiamo qua con la scuola E allora ci siamo? Sì Ci siamo Ci siamo Max Lung con la forze Stingray Bella Bianca E anche l'attensivo Numero 58 di SIC Sulla portiera Con numero 107 Arnaud Oran Dalla Francia Con la sua Mettura numero 107 Guido che si nasconde Dietro la nesta E' un'attensivo E' un'attensivo Fabio Cassini E' un'attensivo Umberto a entrare E' un'attensivo Poi E' un'attensivo E' un'attensivo E' un'attensivo Dobbiamo sguonare Grande Vediamo il tempo, vediamo il tempo, caspita sono stati entrambi hanno sperato, sono stati sotto il tempo, niente, non ce l'ha fatta a parte. Vedo un po' di spazio di liberare qua davanti, grazie ragazzi. Numero 112, attenzione, Giuseppe Dicenti con la 4-10, e poi con il numero 102, Ivan Lissona, arriverà a Francia, ha dichiarato il tempo di 12, le nuove nere si sfidano sulla striccia e passa alla sinistra. Grazie.